Alla fine metterai la tua firma che suggella tu. Allora, lo faccio ora? Sì. Vado? Forza. Ok. Grazie, Sindaco. Vado. Sindaco, Casa di Vincenzo cambia casa. L'intenzione dell'amministrazione è quello di farlo entro Natale. Cambia casa, ma rimane una casa. Quindi lo spirito di Casa di Vincenzo, che ha funzionato in questi anni, continuerà a essere presente in un luogo forse anche più comodo. Abbiamo l'esigenza di spostare proprio per portare avanti un progetto importante che è l'EIAB. Prima di Natale ormai ci siamo, credo, due o tre giorni e avremo un nuovo punto di riferimento importante perché su questo tema noi abbiamo lavorato tanto e stiamo continuando a lavorare. La notizia importante è che ci saranno anche più posti disponibili. Passiamo dai venti circa a quanti? A regime credo che avremo anche una trentina, però vediamo anche di capire un po' gli spazi complessivi nel momento in cui c'è il trasferimento. Sono convinto che la soluzione sia sicuramente migliorativa soprattutto per gli ospiti che si sono ben adattati in questi anni a questo importante strumento che integra molto di più la realtà sociale a quella che è una città che ha bisogno proprio di accoglienza complessiva anche nell'ambito sociale.